Vinitaly 2019, parliamo di distribuzione nel mondo del vino con Tommaso Torri di Sogedim. Buongiorno a tutti gli amici di Beverfood. La nostra azienda si occupa di trasporti, logistica a 360 gradi, quindi per ogni tipologia di merce. In particolare negli ultimi anni abbiamo assistito a un incremento del settore wine, del settore vino, che registra sempre più ordinativi e quindi ha bisogno di un partner logistico in grado di soddisfare appieno le esigenze del cliente, che è quello che facciamo noi. Voi siete degli esperti sulla temperatura controllata, quanto è importante questo tema quando parliamo di vino di qualità? Sì, è molto importante perché sempre di più nell'ultimo periodo si sta cercando da parte dei produttori e dei compratori di vino di mantenere la catena del freddo durante il trasporto per evitare possibili alterazioni al vino stesso. Di conseguenza sempre di più è richiesto uno stoccaggio, una distribuzione, un trasporto a temperatura controllata. Questa è un po' la nostra specialità e noi garantiamo da qualche anno questa parte, con l'introduzione di un nuovo settore specifico dei trasporti e logistica a temperatura controllata, noi garantiamo il mantenimento della catena del freddo, specialmente per queste tipologie di merci come il vino, che sono molto preziose e molto importanti. Soluzioni logistiche che offrite alle cantine per soprattutto esportare? Diciamo che il nostro motto è quello di cercare di soddisfare sempre le esigenze del cliente. Di conseguenza prendiamo proprio spunto da quelle che sono le richieste dei vari clienti e cerchiamo di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, dal piccolo trasporto, dai piccoli quantitativi, fino ai trasporti più lunghi, per lunghe tratte, con quantitativi più ampi. Insomma, quello che cerchiamo di fare è capire le esigenze del cliente e garantire il servizio che il cliente desidera ricevere.